Dopo dieci anni, bel compleanno perché vuol dire che nonostante le complicazioni straordinarie che questa crisi economica ha portato queste imprese, questa attività di commercio, di artigianato nel centro storico in particolare di Rimini, ma insomma in tutto il nostro territorio hanno voglia di continuare a provarsi. È difficile perché è una crisi davvero con contorni che man mano che passa il tempo si definiscono purtroppo in negativo. Penso che sia molto importante mantenere questa voglia di provarci, di farlo stando insieme in associazione, in CNA, tra di loro, come hanno fatto magnificamente in questi anni, perché la risposta più bella alla crisi l'hanno data proprio queste persone qui, insomma, che hanno combattuto, combattono in una logica in cui non è solo il problema di vendere un prodotto in più, è proprio di riuscire a offrire un tessuto vivo alla gente che va nel centro di Rimini, vivibile, perché attraverso di loro c'è contatto, c'è movimento, c'è relazione umana. Senza di loro i centri storici si svuotano, ci rimangono gli iper, come ho detto altre volte, quando ci vai negli iper ti ritrovi un po' uno tra i tanti, invece in centro storico con questa gente qui ci si diverte, si può comprare, si possono fare cose, quindi auguri, dateci dentro così perché davvero c'è bisogno di questa voglia e di questa vivacità. Salve a tutti, bentrovati alla decima edizione di Zenta de Borg, anche quest'anno saremo pronti con le nostre telecamere a riprendere tutto quello che è il tessuto della città di Rimini, un tessuto che è meraviglioso e sempre ricco di nuove attrattive per chi ci abita, ma anche per i tanti turisti che frequentano la nostra città. In dieci anni viene documentato tantissimo la storia di Rimini, una piccola pagina della nostra amata città, ma anche le città che compongono la provincia di Rimini, Merifri, Scorricione, Sant'Arcangelo, Morciano, tutte le città dove Zenta de Borg in questi anni ha documentato e sicuramente faremo la sorpresa i nostri telespettatori, ma anche tutte le persone che in qualche modo sono venute a contatto con noi. Perciò in bocca al lupo a tutto lo staff, naturalmente che lavora dietro le quinte alla trasmissione, da parte mia che coordino da dieci anni questa iniziativa, ma anche un grazie a tutti voi che in tutti questi anni ci avete seguito.